Prima BMW Motorrad, Napoli Gruppo Rima Yamaka, via Arenaccia, Napoli Motoshop 3000, a Capua in via Nazionale Appia 121 e a Napoli in via Benedetto Brin 64B Borrozzino, via dei Romani 11, Santa Maria Capuavetere Mameti Motors, via Padula 42, Casoria Moto Design Customs, in via Ida 2731 Allora adesso cambiamo argomento, come detto passiamo all'enduro Con Luca Schipani andiamo a Celle di Bulgaria perché si è svolta lì la prima prova del campionato campano enduro Parliamo di pieno Cilento, organizzato dallo staff di Motoservice Grazie anche alla collaborazione del Motoclub Cilento Off-Road Vediamo tutto in questo servizio di Luca Schipani Ciao Lello e sono qui a Celle di Bulgaria, nei pressi di Rocca Gloriosa Dove si sta svolgendo la prima tappa del regionale enduro campagna Si è appena conclusa, le moto sono qui al parco chiuso E io sono in compagnia di un personaggio annuenotissimo, il presidente Gambini Nonché endurista Presidente, si apre qui la stagione Facciamo una piccola riflessione Allora, finalmente si è aperta la stagione, quest'anno siamo in ritardo di circa tre settimane Siamo nel splendido Cilento, giornata meravigliosa, primaverile, clima mite Non potevamo avere accoglienza migliore Siamo circa cento persone, non si è fatto male a nessuno, ci siamo divertiti Gara Tostarella Organizzata al meglio a quattro mai dal Motoclub Cilento Off-Road E dagli amici del Motoclub Boliveto Citra Quindi mi sembra che va tutto bene Oggi, come inizio di campionato, come prima gara, va bene Una gara abbastanza scorrevole, insomma, con tecnica E anche un po' duretta per le tante pietre E il terreno pesante, perché in questi giorni ha piovuto tantissimo Però come inizio va più che bene Sono uscite fuori tante tante pietre che al primo giro non c'erano E che erano molto, molto viscite Quindi alla fine il giro si iniziava a far sentire Però la speciale, sia il fettucciato, sia la linea Erano due belle speciali impegnative E abbastanza tosto Però, tutto sommato, molto, molto divertente Io mi sono divertito tantissimo oggi Mi dispiace per chi era la prima volta che si è avvicinato al mondo dell'enduro Perché, insomma, nella linea ha avuto un po' di problemi Però, insomma, l'enduro è questo Non possiamo decidere il percorso com'è Ce la prendiamo come ce la danno Siamo felici di aver portato dei ragazzi nuovi Michele Rudigliano, De Vito Pellegrino E di aver fatto porre anche quest'anno Carmine Matarazzo Che è il nostro campione motard Che sta qua vicino a me Allora, la gara di enduro per me è un allenamento al mio sport che è il motard Io volevo ringraziare Alfredo Motocay Che mi ha messo a disposizione la moto E tutta l'attrezzatura per fare questa gara Per me è un allenamento E fa tanto bene fare cross, le braccia, le spalle Ci alleniamo bene Era un po' vicido il percorso Però, questi enduristi sono duri e la vogliono così la terra Quindi io mi sono divertito È andata bene È andata bene Volevo ringraziare anche la red moto Che è il distributore Honda di quest'anno Infatti abbiamo corso delle Honda 2014 Anche se abbiamo ancora le Maglius Quarna Sono i vecchi residui degli anni passati Ma da quest'anno, come potete vedere dai bandi alle nostre spalle Siamo ondisti Quindi viva Honda, viva il Giappone Per quanto riguarda insomma i motori È stata una grande gara È stata una bellissima gara Prove speciali disegnate perfettamente Una nella pista di motocross Una linea molto tecnica Con pietre che si tendeva a bucare ogni giro Insomma molto difficile È stata una grande battaglia con il mio compagno e amico Damiano Lullo Quindi sono molto felice È la mia prima assoluta nella mia carriera Quindi sono abbastanza felice Va bene, alla prossima allora Grazie, grazie, crepi Ernesto Carmando, vincitore della categoria E2 oggi Un po' un commento per questa gara È stata una bellissima gara Molto impegnativa Mi è piaciuta tanto Alla prossima Alla prossima Sì, una bella gara Una linea dura da campionato italiano Una bella speciale La linea più che altro è molto dura Però ci siamo divertiti Abbiamo lottato fino alla fine Hai colto una bella soddisfazione Una bella soddisfazione Coglianese Daniele Primo classificato della categoria T1 Sì, è stata una bella gara Bellissima Una linea bella Anche un bel fettucciato Direi che sono contento di questa bella giornata Sono insieme a Patrizio Plaitano Vincitore della categoria T2 Patrizio, un commento sulla gara Era bella È andata bene La prossima Speriamo meglio A post Andrea Dell'Orto Vincitore della categoria T3 Con un cognome così D'altronde Carburatore Dell'Orto Carburatore Sì, in effetti È stata una bellissima gara Sono contentissimo Che dire Aspettiamo la prossima Categoria Veteran Cerra Vittorio È del trentatresimo anno che corro Senza mai smettere Mamma mia La gara? Bellissima Un complimento grande agli organizzatori Per l'impegno che hanno messo Per organizzare due speciali Veramente quasi da italiani Un grande grazie a tutti gli organizzatori Michele Senese Primo classificato della categoria Under 21 Un commento sulla gara È stato molto bello Molto impegnativo Però molto divertente Perfetto Allora in bocca al lupo per la prossima Grazie Sì, assolutamente soddisfatto Anche se era inaspettata Però ho trovato il terreno che preferisco E ha avuto vita facile La linea tecnica La vita facile E quindi sono contentissimo di aver portato il nome del nostro Neofi da Motoclub che è nato un mese fa Ricordiamolo Motoclub Lucano Mord E niente Lucano Mord Il doppio send Va bene In bocca al lupo per la prossima Grazie mille Alla prossima Innanzitutto voglio dedicare questa vittoria a mio figlio Che è nato da una ventina di giorni Bellissimo E la dedico a lui E poi a mia moglie e l'altra bambina Va bene In bocca al lupo per la prossima Crepi Siamo stati un po' ostacolati dal tempo Perché è piovuto fino a venerdì mattina Per cui non c'è stato tempo materiale Di sistemare un po' tutto il percorso Che è stato reso viscido appunto dalle acque Infatti nella linea si sono create non poche difficoltà Però devo dire che C'era molto aiuto manuale Molti ragazzi hanno contribuito Con il loro aiuto Per cui tutti sono riusciti a cavarsela Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato In particolare il motoclub Olivetto Citra Il mio amico Massimiliano Rottura Che è venuto dalla mezzia terme Due o tre giorni appunto per aiutarmi E tutti coloro Il mio staff che mi ha aiutato tantissimo Teresa, Antonia e tutto il resto